eqa rappresenta il modello d'ingresso al mondo della trazione completamente elettrica di mercedes eq dimensioni compatte che offrono spaziosità all'interno e una guida rialzata davvero sub molti sono i dettagli che caratterizzano la serie eq di mercedes per esempio i dettagli in blu dei fari a led ai performance di serie mascherina del radiatore black panel che migliora l'aerodinamica della vettura a un cx di 0,28 e fascia luminosa dei fari a led che troviamo sia nel frontale sia nella coda nel video abbiamo una eqa sport ma possiamo anche scegliere la serie premium che inoltre prevede anche la richiesta del pacchetto night con finiture in nero lucido degli esterni ampi passaruata come in tutti i suv mercedes benz e un inserto sottoporta che dà un carattere offroad alla carrozzeria di questa vettura sia per versione sport e premium possiamo richiedere cerchi da 18 a 20 pollici targhetta eqa che identifica il modello come il frontale anche nella coda troviamo la fascia luminosa a led che ritroviamo anche nella sorella maggiore eqc nel video abbiamo una eqa color bianco polare ma sono tante le vernici metallizzate che possiamo scegliere dal grigio montagna al grigio montagna magno design fino al nero metallizzato argento iridio digital white bianco metallizzato il rose gold che è una novità assoluta e il blu denim una volta scelto colore basta personalizzarla con i cerchi lega venite a scoprirla in concessionaria grazie grazie grazie